Musica Si è insediata la dodicesima legislatura, la seduta si è tenuta alle officine grandi riparazioni di Torino. Davide Nicco è stato eletto all'unanimità presidente del Consiglio regionale. Cirio, rinnovamento nella continuità. Il presidente di giunta illustratò all'aula il programma di governo. Ben trovati a questa edizione di Consiglio News interamente dedicata all'insediamento della dodicesima legislatura. La seduta si è tenuta al binario 3 delle officine grandi riparazioni di Torino poiché l'aula di Palazzo Lascaris è in fase di ristrutturazione. Nel corso dei lavori l'Assemblea ha eletto Davide Nicco, presidente del Consiglio regionale e l'ufficio di presidenza. Davide Nicco è il nuovo presidente del Consiglio regionale del Piemonte, eletto all'unanimità dall'aula. Nominati anche gli altri componenti dell'ufficio di presidenza, i vicepresidenti Francesco Graglia, Forza Italia, eletto con 30 voti, e Domenico Ravetti, partito democratico che ha riportato 20 voti e i consiglieri segretari Fabio Carosso, Lega, Mario Salvatore Castello, lista Cirio che hanno ottenuto 30 voti ciascuno e Valentina Cera, alleanza verdi-sinistra, eletta con 19 voti. L'elezione è avvenuta a scrutinio segreto. È stata un'elezione avvenuta all'unanimità e questo mi fa estremamente piacere perché vuol dire che non solo la maggioranza ma anche la minoranza ha espresso una fiducia che cercherò di ricambiare gestendo l'aula al meglio delle mie possibilità. I traguardi sono di cercare di essere utili con grande onestà, con grande serietà, quindi stare in mezzo alla gente, capirne le esigenze e cercare delle soluzioni. Fare il meglio per il Consiglio regionale del Piemonte sia nell'attività interna che rispetto a tutto ciò che sarà necessario per collegare le attività del Consiglio regionale alle persone che vivono nel Piemonte. Penso che tutto il Consiglio possa lavorare molto bene come gli scorsi cinque anni per fare grande la nostra regione. Si parte con lo spirito di squadra, con lo spirito di fare bene, con lo spirito di stare sempre al servizio della gente e per la gente. Essere parte dell'ufficio di presidenza, rappresentare le opposizioni, le minoranze all'interno dell'ufficio di presidenza vuol dire essere presidio di buon funzionamento e di democrazia. Martedì mattina, giorno successivo all'insediamento, l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale si è messo subito a lavoro riunendosi a Palazzo Lascaris per le prime decisioni sulla ripresa dei lavori e sul funzionamento dell'ente. Torniamo adesso alla seduta di insediamento nell'ambito della quale in apertura di lavori Il Consiglio regionale del Piemonte, preseduto temporaneamente dal consigliere anziano Mauro Salizzoni, ha anche effettuato le surroghe, tutte votate all'unanimità dall'Aula. Maurizio Marrone, eletto sia nella lista regionale per il Piemonte, sia nella circoscrizione di Torino, nella lista di Fratelli d'Italia, ha optato per la prima, per cui il seggio è stato assegnato ad Alessandra Binzoni. Marco Gabusi, anche lui eletto nella lista regionale e nella circoscrizione di Asti, nella lista di Forza Italia, ha optato per la prima, determinando la surroga di Deborah Biglia. In base a quanto previsto dalla nuova legge elettorale regionale, l'Aula ha anche esaminato le singole posizioni dei consiglieri che hanno optato per il ruolo di assessore. Vista l'incompatibilità, si è dunque provveduto alla proclamazione dei consiglieri supplenti. A Paolo Bongioanni, Fratelli d'Italia, subentra Federica Barbero. A Elena Chiorino, Daniela Cameroni. Enrico Bussalino, Lega, viene sostituito da Marco Protopapa. Marco Gallo, lista civica Cirio Presidente, da Daniele Sobrero. Marina Chiarelli, Fratelli d'Italia, viene sostituita da Gianluca Godio. Federico Riboldi, Fratelli d'Italia, da Silvia Raiteri, mentre Mauro Fava, Forza Italia, sostituisce Andrea Tronzano. L'assessore Marrone, che aveva optato per il seggio legato alla lista regionale, viene sostituito da Claudio Sacchetto. L'assessore Gabusi aveva, come detto, optato per la lista regionale, venendo surrogato da Biglia. Avendo la lista circoscrizionale di Assi esaurito i candidati, la legge prevede che il subentrante sia individuato nelle stesse liste circoscrizionali che non abbiano ancora espresso alcun seggio, per cui la scelta è caduta su quella di Forza Italia di Alessandria, con Davide Buzzi Langhi. Anche in questa occasione le votazioni sono state tutte all'unanimità. Rinnovamento nella continuità. Questo è il filo conduttore del programma di governo per i prossimi cinque anni, illustrato in aula dal Presidente della Giunta, Alberto Cirio. Continuerò a essere moderato e responsabile, disponibile con maggioranza e opposizione. Dobbiamo rimanere quello che siamo, sapendo che il ruolo che abbiamo non deve essere un privilegio. Questo è il messaggio lanciato dal Presidente della Giunta, Alberto Cirio, intervenendo in aula per l'illustrazione del programma di governo. Dopo aver espresso solidarietà al giornalista della stampa, aggredito fuori dall'asso di bastoni, Cirio ha garantito la responsabilità nei confronti di tutti i cittadini del Piemonte. La vita è fatta di equilibrio, è fatta di scelte condivise, di scelte razionali e dobbiamo così fare per il futuro. E quindi lo faremo anche all'interno del Consiglio regionale, così come l'abbiamo fatto in questi cinque anni, perché le scelte migliori sono quelle che arrivano dall'equilibrio e dalla condivisione maggiore. Tra le principali sfide il Presidente Cirio ha indicato la sanità affidata all'assessore Federico Riboldi, dall'assunzione di personale al superamento delle liste d'attesa, dall'edilizia sanitaria al licenziamento del nuovo piano sociosanitario. Circa le politiche sociali di competenza dell'assessore Maurizio Marrone ha citato la recente legge sulla casa e l'attuazione dell'accordo sulle RSA. Rispetto ai temi legati alla formazione al lavoro affidati alla Vicepresidente Elena Chiorino, ha rammentato le Academy di filiera, modello innovativo di formazione professionale. Per la prima volta le deleghe all'agricoltura e al commercio sono insieme affidate all'assessore Paolo Bongioanni, che si occuperà, ha sottolineato Cirio, anche di diffondere il modello saluzzo contro il caporalato, per garantire assistenza sanitaria e dignità abitativa ai lavoratori stagionali. Per il turismo, la cultura e lo sport, assessore Marina Chiarelli, il Presidente della Giunta ha evidenziato la campagna in favore delle zone colpite da eventi meteorologici, i finanziamenti triennali per ragionare i tempi lunghi dei pagamenti, le ATP Finals e le Universie di Invernali. Le deleghe alle attività produttive e al bilancio sono affidate ad Andrea Tronzano, tra gli obiettivi la nascita della Silicon Box, l'azienda che produrrà microchips a Novara con 1.600 posti di lavoro. Quanto al bilancio, ha ricordato Cirio, abbiamo ottenuto la parifica della Corte dei Conti senza eccezioni, abbiamo ridotto di 1,5 miliardi il debito della Regione. Enrico Bussalino si occuperà di autonomia e logistica. Abbiamo scritto al Governo, ha detto Cirio, per la predeterminazione dei livelli essenziali di prestazioni per iniziare a lavorare. Sulle grandi infrastrutture abbiamo integrato la delega alla logistica, che ci permette con il terzo valico di essere il cuore dell'Europa. In materia di trasporti, con l'assessore Marco Gabusi, si punterà i collegamenti tra il Nord Piemonte e Torino. Mentre in tema di ambiente, assessore Matteo Marnati, Cirio ha evidenziato come la Giunta ha approvato il piano per la qualità dell'aria, che coinvolgerà tutti gli enti interessati e su cui il Consiglio dovrà lavorare. La nuova legge sull'urbanistica, di cui si occuperà l'assessore Marco Gallo, sarà un altro argomento importante, così come il piano delle opere del PNRR per la tutela delle borgate di montagna. L'assessore Gianluca Vignale, ha sottolineato il Presidente di Giunta, conosce la macchina, opera con determinazione e passione, leggendo e studiando i documenti, e si occuperà del patrimonio della Regione dopo il trasferimento dei dipendenti nel Grattacielo. Un ringraziamento, infine, è andato ai due sottosegretari, Claudia Porchietto e Alberto Preioni, nuove figure previste dalla legge elettorale. Dopo l'intervento del Presidente Cirio, hanno preso la parola in aula i capigruppo. Mi rivolgo innanzitutto a lei, Presidente Nicco, sottolineando l'importanza del ruolo che le è stato attribuito da tutta l'Assemblea, affermando in questo modo l'alto valore istituzionale e a lei chiediamo di svolgere questo ruolo, riconosciuto dalla Costituzione, dallo Statuto e dal regolamento con grande equilibrio. Il nostro sarà un partito serio, dimostrerà il massimo rispetto e correttezza, un partito che chiederà l'attenzione che merita sui temi fondamentali, il tema dei temi, la sanità. Continuare ad accorciare le liste d'attesa, lavorare sull'efficacia e l'efficienza di pronto soccorso, incrementare il personale sanitario e medico, incrementare la mobilità attiva del cosiddetto turismo sanitario, incentivare l'assistenza domiciliare. Il primo dato che pongo come tema, Presidente, è il grande tema della denatalità, ma la denatalità non può essere solo vista come una mancanza di nuovi nati, ma anche come un argomento che noi dovremmo vivere e leggere in modo trasversale, penso ad esempio alle politiche sul lavoro. Il Movimento 5 Stelle ci sarà, continuerà a portare avanti la propria azione politica in modo costruttivo e propositivo, come sempre fatto anche nella scorsa legislatura, ma non desiteremo ad opporci con fermezza e con tutti gli strumenti a disposizione nel caso dovessimo rilevare norme, provvedimenti che rischiano di danneggiare il nostro territorio. Basta borse di studio ai violenti, che gli idonei, che si dimostrano violenti in azione all'interno delle università o fuori, vengano bloccate le borse di studio. Ci batteremo per i lavoratori e le lavoratrici piemontese, per i loro diritti, perché i lavoratori e le lavoratrici hanno bisogno di un salario equo, di lavorare in sicurezza. La nostra sarà una posizione costruttiva, avviso aperto e saremo lì per sostenerla, Presidente, quando lavorerà, ad esempio, come ha citato, per valorizzare e studiare il ruolo dell'intelligenza artificiale, in primis supportando Torino come centro di coordinamento nazionale. Per questa edizione è tutto. Prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte. Arrivederci! Grazie a tutti!